SIGLA CONOSCETE 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 il detto... ma incontrare i propri eroi? Beh... io l'ho fatto. Ed è stato... incredibile. Gli Avengers sono come li immaginavo. Ciao, San Francisco! Thor, Tony, controllate. Subito. Ammi dietro. Stavi aspettando? Ah, sì, ovviamente. Volevo recuperarsi. Wow! Qua sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì! Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok. Via, via, via! Ci sono almeno due persone di rossi armati. Ci servono rinforzi. Noi non siete degni. Noi non siete degni. Tony, la situazione. Ci sono mortali bloccati e parecchi omini armati e arrabbiati. Ho appena preso un autobus. Forse avrei dovuto fare una curazione più abbondante. Thor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricade. Ho capito. State dietro di me. Allora ci passo io. Siamo noi, a te, Thor! Sarà divertente. Thor, con chi abbiamo a che fare? Non si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo SHIELD. Provo a contattare il comandante Hill. Cap, hanno scelto proprio oggi per un motivo. Lo penso anche io, Bruce. Resterò sulla chimera finché non avremo scoperto che succede. Grazie, ti prego. Thor, grazie. State giù, rinforzi in arrivo. Nuovo avversario. Uccidete io. Chi ha detto che potessi prenderti tutto il direttimento? Devo ammetterlo, quello è stato rotevole. Preso? Oh, spavolto. Mi piace. Arrivano! Degli scudi. Pizzarro. Non è finita. Ehi, tornate indietro. Ho appena ricevuto conferma. La mattina hanno rubato un convoglio SHIELD. È uno di quei brichini mattutini di Fiori che non leggo mai. E dai, Tony. Sono importanti. Ok. Come vuoi. Ragazzi, forse? Direto che Fiori abbia tenuto la mia tecnologia migliore tutta insieme. Suoi razzi finiranno per destabilizzare il ponte. Sì, lo so. Io costruisco il tiro. Cap, dovremmo mettere in sicurezza il cristallo ferrigelo se dovessero colpirlo. Sono già all'opera. Il dottor Tarton sta scendendo nella stanza del cristallo. Avengers, il convoglio trasporta prototipi SHIELD e segreti. Fiori sta cercando l'elenco di carico completo. Hill! Come stai, tuo gatto? Dì a Fiori che adoro farmi sparare addosso con le mie stesse armi. Vi terremo aggiornati e Gus sta bene. Ah, io non lo sapevo che stessi ancora ascoltando. Mi aspettavo che questi idioti si fossero dati alla fuga ormai. Ho l'impressione che non abbiamo ancora visto. Sta succedendo qualcos'altro. Dichiesta! La brillante idea di dotare i cambi di SHIELD e di torrente. Tony! Ah, giusto. Mia. Che succede là, Joe Tony? Ah, niente. È tutto perfetto. Spero solo che non abbiano... Niente, sto sento. Hanno dei carri pulso. Cap, la nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della Chimera è inserito. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Donnie, go! Guarda, scontumi i nemici volanti! Sono proprio fastidiosi, eh? Arrivo! Guarda, scontumi i nemici! Guarda, scontumi i nemici! Guarda, scontumi i nemici! Sapete, oggi mi aspettavo più fanclub e festelle! Concentrati, Tony! Avengers, come sta andando? Quei carri stanno distruggendo il forte! Se non li fermiamo, potrebbe crollare! Brigati, bestione! Non resisterai ancora al lungo! Dov'è il bestione verde? Lo vedo! Hulk, scendo con il Queen's Heart per atterrare! Hulk, scendo con il Queen's Heart per atterrare! Oh! 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 Le invenzioni sono pericolose, Stark. Ehi, quelle arvi erano per i buoni. Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento. Concentratevi, ok? Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reattore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Pare che una fonte di calore ci attiri. Nat distruggerà la città. Ripeti, Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi. Attenzione! La chimera è sotto attacco! Evacuati i civili! Granata! Via! 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 Steve, mi ricevi? Nat! Nat! Tartal, ci sei? Siamo isolati! Capitan, abbiamo un problema! Lo so, Doc. Voglio non fare la chimera. Non quello! Non ho mai visto rilevazioni semine. Arrifuto! Delizio! D'aclant, abbiamo un problema. Non è 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 un problema. C'è un problema. Ecco, solidi! D'Arton, aggiornami! Quel reattore non si stabilizzerà! La struttura molecolare del Terrigen si sta scomponendo in un gas! Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore! Ed è straordinario! Doc, ti richiamo! La nave non resisterà ancora a lungo! Ci sto provando! D'Arton! D'Arton! Avengers, mi sentite? Che sta succedendolo fuori? Avengers! Rapporto! Il pastor è in vita! Il pastor! Avengers, se mi sentite il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo! Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Abbiamo una bomba sonica. Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Quella si chiama entrata. Tusk Master. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse potrebbe sciogliere tutto nel razzo di 20 chilometri. Beh, cosa stiamo aspettando? Tony, Thor, i cavi! Io penserò al pazzo con il detonatore. Pro! La base del ponte è sicura! Ragazzi, percebo delle strane rilevazioni sismiche. Tony, il cavio! Ricevuto! Hai fame? No! Questo lo prego io. Sai, speravo di affrontarti. Ruffo! Io invece non ho mai ripensato a te. Vatti sotto! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stavamo parlando. Senza il vostro captain, voi Avengers siete belli. Dammi il detonatore e forse non ti lancerò chi dal punto. Grazie a tutti. Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi? Ti arrendi? Non se ne ballo! A cosa hanno portato i tuoi danni? So che non sei il cervello dietro l'attacco e che questo puzza di diversivo. Basta parlare! Codarda! Che c'è? Non ti piacciono le sorprese? La prossima volta prendi appunti. Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto. Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno, Romanoff. Il mondo si ricorderà di questo giorno. Il giorno in cui i loro eroi fallirono. Che sta succedendo qui? La città collassa. Maledizione, una trappola. Steve, puoi sentirmi? Vattene subito! Beta! Al diavolo! No. Cinque anni fa, gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata, causando una quantità di danni mai visti prima. Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tempo e molte altre portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come A-Day. Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali. Senza alcuna cura, la malattia si è diffusa in tutto il paese e mentre sia lo SHIELD che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione, la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era. Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto. Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos, molti dormienti e non identificati. Quindi le ripeto la domanda, dottor Banner, gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì. Dopo essere stati dichiarati fuori legge, il gruppo di eroi si sciolse. In verità molti di loro se ne erano già andati. Con la liquidazione della Stark Industries, il dottor George Tarleton, una vittima degli avvenimenti delle A-Day e fondatore delle avanzate idee meccaniche, pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese. Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers, ma non ero vicino alla stanza del reattore. Non ho risposte quindi, ma posso promettervi questo. Io userò questa mia seconda occasione per rendervi più sicuri. Lion riuscirà a trovare una cura alla malattia degli inumani. Grazie. 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 Grazie.